mancano 32 giorni alla fine dell'anno siamo sotto il segno del sagittario la chiesa ricorda san fedro l'onomastico oggi è l'onomastico di fedro il nome ha origine greca e significa lieto vivace il numero porta fortuna è lotto il colore è il blu e la pietra associata è lo zaffero accadde il 29 novembre del 1975 viene coniato per la prima volta il nome microsoft da microcomputer software usato da bill gates in una lettera a paul allen chi è nato oggi tra i personaggi famosi nati il 29 novembre ricordiamo lo scrittore carlo levy il regista americano joel cohen la citazione del giorno il cuore a vent'anni si posa dove l'occhio si posa george bernanos dice il saggio tieni in pugno il tuo lavoro o sarà lui a tenere in pugno te il bel paese nel cuore delle alpi apuane si trova uno dei siti nascosti più affascinanti ma poco conosciuti della toscana si tratta dell'antico borgo di isola santa sulle rive di un piccolo lago di montagna costruito nel medioevo il villaggio è oggi un'oasi di natura lussureggiante e antichi edifici dove si può anche soggiornare le casette di pietra dai tetti in ardesia sono quanto resta del nucleo originario in parte sommerso dalle acque del bacino artificiale pittoresco e ben conservato il paesino è il posto ideale per raccogliere funghi pescare trote selvatiche e dedicarsi all'escursionismo con numerosi sentieri che si addentrano nei boschi verso le cime maestose delle alpi apuane grazie 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 grazie